Ma fa un commento, ma che ne pensi dell'illuminazione in piazza qua? Che ne pensi quest'anno? Veramente, quello devo uscire per guardarlo. Se ti metti in due corsi, un corsi appicciato comunque, ma le sono belle, la bella armata. No, allora, effettami via, forse tanto che ho troppa luce, guardassi che la vedo diversa. Mettiti in due corsi, guarda, comunque è bella l'allumata. Alla parte è bella armata. Che lo faccio? Ci sono in Roma, la situazione? Oggi ho il capesto, se non lo mettiamo in casa, io ho la capace di pagone. Ma allumata com'è il mio zafiazzi? Il mio zafiazzi è bello? Si, pure il mio zafiazzi è bello. Il mio zafiazzi è bello, il cieno si vedono abbastanza chiaro rispetto a chi le andano. Poi, guarda solo l'effetto un po' di più a piatto. Hai visto ieri Pasquale, come ero? Ho aspettato, è stato bello. È stato bello? È stato bello. Ma prima era una cosa la festa, quando Pasquale arrosteva. È buono, non mi piace queste gagne. Ma perché non arrosto più Pasquale? Con il messaggio. O con il messaggio non fa arrostere? Forse fa striccia, però non se ne serve. Ma forse non ci piace com'è il rosticchio. No, non mi piace il rosticchio. Ma non mi piace il rosticchio. Non mi piace il rosticchio, ma non mi piace il rosticchio. Ma io faccio coppare la piaccia. Ma quando ti hanno i vizi, tu hai tutto quanto coppare la piaccia? La giusta, la giusta, la giusta è piaccia. Quanto si prende ora il panino? E' quello che ho fatto. Ma quanto si prende? 4 euro il panino? E' quello che ho fatto. 5 euro? 5 euro. 5 euro per la piaccia. Tu quanto ti prende ora il panino? 5 euro. 5 euro il panino? 5 euro il panino? Tutta la piccola? Tutta la piccola. 5 euro. 5. Il mato non lo fai il panino o no? No. Perché no? Il cese sarà un po' di panino. E' un po' di panino. E' in generale che ne piensi di questa festa? No. Una cosa troppo piccola. Troppo? Troppo piccola. Troppo piccola. No, non lo so. Fanno i commenti? I commenti non ce ne fanno. Non ce ne fanno? Non ce ne fanno? Eh. Accontentiamoci di questa festa. Ci accontentiamo? Eh sì.